Dopo qualche anno e cinque partite disputate uno contro l'altro, è possibile affermare con ragionevole certezza una cosa. A Novak Djokovic il tennis di Lorenzo Musetti, almeno sulla terra abbattuta, dà fastidio. Una ragione a mio avviso c'è ed è tattica. Musetti infatti sul rosso, almeno nei momenti buoni, tende sì come al solito a mettere rischiosamente in mano degli avversari la partita, ma lo fa in modo non banale e soprattutto molto più efficace rispetto a quanto accade su altre superfici. Costringe infatti gli avversari a fare la partita, a spingere, però allo stesso tempo tessendo una trama nello scambio direi passivo-aggressiva molto efficace sulla terra abbattuta e difficile da leggere. E lo fa alzando le traiettorie, cambiando di continuo ritmo, tagli, angoli, giocando e portando gli altri a giocare nelle posizioni di campo meno battute, riuscendo allo stesso tempo ad assorbire molta della spinta in entrata con una capacità di copertura del campo di altissimo livello. E a Djokovic fare la partita, essere costantemente molto aggressivo non piace. Attenzione, non è che non lo sappia fare, sia chiaro. Semplicemente non gli piace, non è la sua partita ideale e soprattutto ad inizio della stagione sulla terra abbattuta, quando capita che non si presenti centratissimo per lui la situazione può diventare ancora più complicata. È stato così anche questa volta, ma a differenza ad esempio dell'anno scorso, Djokovic si è presentato in condizioni un po' migliori e questo è bastato poi alla fine a fare la differenza a suo favore. In realtà, soprattutto il primo set è stato parecchio complicato per il serbo, partito abbastanza confuso e disordinato, al contrario di un Musetti preciso ed ispirato. Musetti che però deve recriminare soprattutto per un ottavo game in cui avanti 4-3, servizio e 40-0 si è fatto breccare permettendo al serbo di rientrare in un set che stava fin lì sostanzialmente controllando. Djokovic peraltro proprio in quell'istante sotto 15-40, come spesso gli capita, ha utilizzato una piccola polemica con arbitro e pubblico per una palla non chiamata fuori su un punto tra l'altro vinto per trovare di improvviso un po' più di attenzione e soprattutto precisione. La partita non è cambiata radicalmente ma il suo punto di equilibrio in quel momento si è spostato. Musetti ha perso un po' di precisione con il dritto, il primo set per 7-5 e pur riuscendo comunque a rimanere competitivo per gran parte del secondo set non ha però ritrovato più il controllo dei primi game che aveva mandato un po' in confusione il serbo. Serbo che nella seconda parte dell'incontro, pur in mezzo ad una situazione rimasta comunque complessa, è riuscito a non innervosirsi, cosa non del tutto scontata, mantenendo l'attenzione sufficiente a fare quella piccola differenza necessaria a portare a casa incontri simili. Djokovic nei quarti di finale dovrà affrontare Deminaur che sta portando anche sulla terra la sua forma straordinaria degli ultimi mesi che negli ottavi ha battuto con una certa facilità il connazionale Alexei Popirin. Mentre sempre nella parte alta del tabellone, nel momento in cui il registro non si è ancora composto l'altro quarto che uscirà dalle sfide tra Rude Urkacz e quella tra Sonego e Umber. Nella parte bassa invece i due quarti di finale vedranno posti Zizipas e Kachanov che hanno rispettivamente battuto Zverev e Medvedev e Rune contro Sinner che hanno avuto la meglio di Dimitrov e Struf. Per Zizipas una prestazione molto buona fino al 7-5 e 5-1 quando tutto il suo tennis finì convincente soprattutto grazie ad un nuovo e migliore utilizzo del dropshot, in particolare di rovescio che ha costantemente mandato fuori equilibrio Zverev, si è completamente inceppato rischiando di riaprire una partita che pareva morta e sepolta. Alla fine il greco l'ha comunque spuntata al tiebreak di quel secondo set confermando una forma in crescita ma forse anche la presenza di qualche spettro rimasto a fargli compagnia dopo mesi di grande difficoltà. Nel video dopo la finale di Miami mi ero invece chiesto con che tipo di approccio si sarebbe presentato Medvedev sulla terra rossa, viste le recenti numerose sconfitte con Alcaraz e Sinner e visto il suo rapporto complicato anche se in miglioramento con la superficie. E più precisamente mi chiedevo che tipo di reazione avrebbe avuto sotto l'aspetto nervoso che visto il temperamento è un po' il barometro, il termometro indiretto del suo rendimento. La risposta seppur solo iniziale ovviamente è puntualmente arrivata con Medvedev nervosissimo sia nella partita vinta con Molfis l'altro giorno che poi in quella di oggi fatale contro Karen Kachanov. Un Kachanov c'è da dire di ottimo livello, sempre estremamente solido, un atleta fenomenale che negli ultimi mesi sta tra l'altro giocando bene anche sul suo lato storicamente più instabile, quello del dritto. Nessun problema invece per Jannik Sinner contro Jan Lennart-Struf che poteva insidiarlo solo con una giornata eccezionale al servizio che invece non è arrivata. Le percentuali di prima in campo per il tedesco sono infatti state basse e questo l'ha portato ad un destino inesorabile in praticamente ogni situazione in cui lo scambio iniziava ovvero quello di perdere la grande maggioranza dei punti sballottato a destra a sinistra da Sinner spietato nell'andare a incidere nel campo aperto e cercando il contropiede sulle difficoltà di spostamento laterale di Struf. Dicevamo per Sinner nei quarti di finale la riedizione di una pepatissima partita giocata e persa proprio un anno fa. Si troverà infatti di fronte Olga Rune uscito vincitore contro Grigor Dimitrov nella migliore partita della giornata spettacolare ed estremamente equilibrata per un set deciso solo dopo un'ora e mezza 11-9 Altebrek a favore del danese però poi rotta almeno momentaneamente da un problema all'addominale laterale destro sempre di Rune che ha sostanzialmente compromesso la capacità di spingere al servizio portando il flusso del match su quel tipico non ritmo diciamo di quando uno dei due tennisti è infortunato ma non così infortunato. Insomma la partita per un po' si è fatta brutta, indecifrabile, Dimitrov in qualche modo si è preso il secondo set ma poi nel terzo set Rune ha ricominciato a servire normalmente e l'incontro non solo è tornato in equilibrio ma è anche rapidamente risalito in termini di qualità. Un equilibrio infine rotto da Rune solo dopo tre ore e mezza e tre match point annullati sul 5 a 7 in un tiebreak a questo punto decisivo interpretato dal danese davvero alla grande in modo deciso spingendo e trovando soluzioni di qualità tecnica elevata che gli hanno permesso di portarsi a casa il risultato tecnicamente migliore del suo complicato 2024. È tutto per oggi vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere mi piace se il video vi è un po' piaciuto e di valutare la possibilità di abbonarvi. Con pochi centesimi al mese avrete accesso ad un sacco di contenuti extra ma soprattutto darete una mano a mantenere Slice indipendente e aiuterete concretamente a farlo crescere.